E' un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Questa iniziativa proponendo una novità che è quella di applicare per tutta la Tribuna Nord esclusivamente il biglietto ridotto. Quindi avranno accesso con biglietto ridotto indistintamente uomini, donne e bambini. Questo perché ovviamente poi c'è la prevendita e devo dire che questo biglietto ridotto varrà ugualmente anche per il giorno della gara. Perché sapete che c'è una distinzione nostra tra il giorno di gara e i giorni precedenti. Quindi verrà mantenuto il prezzo unico a 5 euro ridotto più la prevendita fino a un minuto prima dell'inizio della partita. Questo perché io domenica vorrei giocare, non in 11, vorrei giocare esattamente in 1.511. Perché credo che i nostri tifosi debbano capire l'importanza di questa partita, debbano capire, e credo che sia anche abbastanza chiaro sotto il profilo proprio dello scenario della situazione della classifica e degli sconti, come dicevo prima, diretti che ci sono, che il risultato di vittoria domenica sicuramente per noi rappresenterebbe veramente un ottimo risultato che non ci darebbe la certezza della salvezza, ma comunque insomma sarebbe di buon auspicio sicuramente poi agli ultimi due incontri che ci aspettano, come sapete, a Ferrara e in casa con il Savuolo. Quindi il mio oggi è un accurato appello proprio alla città. Credo che da parte della società fosse doveroso dare un segnale in qualche modo di facilitazione appunto anche a quello che è l'accesso allo stadio. Ecco, noi questo segnale l'abbiamo mandato, ora mi aspetterei che qualcuno per favore, non so che tempo sarà, rimandi il mare alla prossima domenica, perché domenica, come ho detto, vorrei 1.500 persone a tifare pittoyesi, cosicché credo che riusciremo sicuramente a dare sostegno a questa squadra perché credo che anche i ragazzi sicuramente troveranno beneficio se troveranno anche i nostri tifosi accuratamente a tifarli che non a contestarli.